Quanto pesi? Peso circa 4.8 kg Quanto sei alto? Sono alto 58 cm Quando sei nato? Sono nato nel 2006, ma non conosco il giorno esatto Da dove vieni? Sono stato creato ad Softbank Robotics a Parigi Quante lingue parli? Ho solo i seguenti pacchetti di lingue cinese, inglese, italiano, giapponese Puoi muoverti? Sì Puoi chiedermi di spostare la testa o di muovere le mani Muovi la mano sinistra? Va bene Grazie Ah wow Non c'è di che Muovi la testa a sinistra Va bene Puoi muovere la mano sinistra? Certo Cosa sai fare? Posso cantare se vuoi o possiamo semplicemente parlare Puoi cantare? Non conosco ancora molte canzoni, ma sì Vuoi che canti qualcosa? Sì Va bene Tutto qui Ciao Albert Ciao Albert vengo da te Ciao Albert vengo da te Ciao Albert vengo da te Ti voglio abbracciare Ti voglio abbracciare Ciao 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 Ciao